Purtroppo il taglio dei parlamentari così va a penalitare le aree marginali, quindi noi siamo tra le aree marginali, però non mi aspettavo sicuramente che non ci fosse proprio così quasi nessun rappresentante nelle nostre vite. È una debacle, da qualsiasi parte la si guardi, la provincia di Belluno resta orfana di rappresentanti nel futuro Parlamento che si delineerà con il voto del prossimo 25 settembre. Se si esclude Luca De Carlo di Fratelli d'Italia il panorama delle preferenze per i bellunesi è ben lontano dai fasti dell'ultima tornata politica che portò a Roma otto parlamentari. La delusione comprensibile serpeggia ed è trasversale. Dopo la legge sul taglio dei parlamentari l'obbligo sarebbe stato ridisegnare i collegi salvaguardando i territori marginali, afferma il commissario della Lega Bellunese Franco Gidoni. Il partito per la prima volta dal 1993 non sarà rappresentato da alcun candidato bellunese. Ora bisogna pensare al dopo, commenta Gidoni, cominciando ad allacciare rapporti con chi ci sarà. Ma l'assenza di rappresentanti è trasversale, però occupa la montagna. Siamo ai minimi storici, dice il presidente della provincia, Roberto Padrin. Sono uno schiaffo alla montagna bellunese. Dovremmo comunque tirarci su di più le mani che un po' tutti noi. Adesso abbiamo dei ruoli comunque di un certo tipo per cercare di trovare nuovi interlocutori, creare nuovi rapporti. Nel PD speranze svanite per l'uscente Roger De Mene che è l'ex sindaca di Lamon, Vania Malacarne, mentre sembra non tutto perduto per l'attuale consigliera comunale di Belluno, Maria Teresa Cassol, all'uninominale per la Camera, così come per l'ex sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, capolista al Senato per Sinistra e Verdi. Difficile la corsa per Maisa, Graciela, Busatta, quarta nel proporzionale alla Camera per Forza Italia. In corsa per un seggio alla Camera c'è anche il consigliere comunale a Palazzo Rosso Daniele Trabucco, capolista nel collegio plurinominale della Camera per Italexit.